Oggi è un giorno decisivo, una corsa che potrebbe passare alla storia. I paesi ricchi corrono per proteggere i propri cittadini dal Covid. I paesi in via di sviluppo ci provano. La Giamaica normalmente è favorita, ma solo il 5% della sua popolazione è vaccinata. Il Sudafrica, col suo 9%, sta tentando di rompere i monopoli delle grandi compagnie farmaceutiche, così che anche paesi come il Bangladesh possano produrre i vaccini da soli. Più di 100 paesi sostengono l'appello a sospendere i brevetti per i vaccini, ma non l'Italia, che non prende posizione. Così come la Gran Bretagna, che ha milioni di dosi in più di quanto necessario. Gli Stati Uniti dicono di essere a favore, ma poi in concreto non fanno niente. Chiedete all'Uganda, con meno dell'1% della popolazione vaccinata. Sono spacciati. E sono partiti! I paesi ricchi in testa. Aspetta, che succede? I paesi in via di sviluppo abbandonano la corsa, così non possono proprio competere. Tutti vogliamo vedere la fine della pandemia, ma se tutti i paesi non saranno vaccinati, l'unico vincitore sarà il virus. Sì! 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 Grazie a tutti.